La conduttrice Veronica Maia aspetta il suo secondo figlio e sta vivendo la gravidanza con grande solarità. Come stai? Benone è incinta, 18esima settimana, seconda gravidanza in un anno, più in fretta di così non si poteva fare. La cicogna ha spiccato il volo a pochi mesi di distanza dalla nascita di Riccardo, venuto al mondo il 12 gennaio 2012. Gravidanza molto ravvicinata a quella prima. Sì, desiderata, venuta, cercata, anzi siamo stati fortunati che il secondo sia arrivato subito come avevamo previsto e sperato. E un altro maschio, quindi sarò la regina della casa. Veronica e il compagno, il chirurgo plastico Marco Moraci hanno già scelto come chiamare in nascituro. Nomi? Pole Position, un nome di origine... Grazie. 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 Grazie.